La Blue Economy in Piemonte parte dal Giardino Botanico Rea di Trana per costruire una rete di confronto, studio e coesione tra soggetti diversi e accomunati dal desiderio di uno sviluppo sostenibile. Se ne è parlato nel corso di un incontro organizzato dalla Consulta Europea con l'obiettivo di utilizzare l'approccio sistemico per creare una rete territoriale che si adatti alle linee guida di sviluppo e coesione dell'Unione Europea. Posso dichiarare con orgoglio che la Blue Economy parte dal Piemonte, ma non soltanto parte dal Giardino Rea. Oggi è una grande giornata che unisce tantissimi protagonisti di questa filosofia che valorizza territori, valorizza amministrazioni, valorizza delle valli, delle realtà, delle associazioni, degli operatori privati che partono dal principio e dal valore fondamentale del territorio. La Blue Economy è un'economia che si collega ai principi, ai flussi che esistono in natura, cioè quello che avanza ad un sistema diventa input per un altro. Su questo si fa esattamente l'economia. È locale, è di alta qualità perché i sistemi tra di loro si controllano in quanto prendono l'uno le risorse dall'altro e nello stesso tempo si investe sul territorio.